Tra le novità presentate da Nokia al Nokia World 2013 di Abu Dhabi troviamo anche alcuni accessori. Il primo è questa cover in policarbonato sulla parte posteriore, che nella parte anteriore ricorda oggettivamente una cover già vista in altri prodotti. La cover può essere ripiegata per appoggiare il telefono in una forma, in una posizione, che in questo momento non mi viene, ma che ricorda molto un altro prodotto che è ben noto a tutti gli appassionati. Una soluzione decisamente interessante protegge anche la parte posteriore, che comunque è già resistente nel terminale già di suo. Il secondo tipo di accessorio riguarda i dispositivi di ricarica wireless. 15-20 integra la funzionalità di ricarica wireless al proprio interno. Questi sono nuovi modelli di dimensioni più piccole rispetto a quanto ho visto in precedenza. Anche in questo caso troviamo combinazioni di colore che si abbinano alle finiture di colore proprie del telefono. La cosa particolare è questo rosto fosforescente, che non ci azzecca, come direbbe Montalbano, ma non fa nulla. Paolo Corsini, sempre da Abu Dhabi.